Ndg, chi è il cantante di Amici, nome, età, di dov'è, fidanzata, Panamera, Instagram. Il talent Amici di Maria De Filippi, dopo il successo dello scorso anno, è ritornato. Ha riaperto i battenti. E ha accolto nuovi allievi, pronti a mettersi in gioco. Tra ballo e canto. Tra di loro anche il cantante Ndg, all'anagrafe Nicolò Di Girolamo. Che è stato scelto dalla maestra Lorella Cuccarini. E che, giorno dopo giorno, sta dimostrando a tutti il suo talento. Si sta facendo conoscere, tra alti e bassi. Ma sappiamo davvero tutto di lui? Ndg, all'anagrafe Nicolò Di Girolamo, è giovanissimo, ha 22 anni, vive a Roma ed è un tifoso giallorosso. Non è certo un volto sconosciuto, il ragazzo, infatti, ha scalato le classifiche con la sua Panamera. Un brano rap. Brano che ha superato quasi 5 milioni di stream. Ndg si è già esibito nella sua città. Con vari live anche in giro per l'Italia e dal 2018 ha pubblicato ben 7 singoli su Spotify e nei digital store. A 17 anni con Panamera è partito il successo, poi però tutto si è fermato. Sono andato in crisi. Ho pensato di abbandonare la musica, ma quando parte la base non resisto e parto a detto durante la presentazione ad amici. Ndg dopo il successo di Panamera, ha pubblicato il singolo Troppo Tempo e ha collaborato con il produttore Aiden Lau. Nel 2022, invece, ha pubblicato mille volte, nuovo singolo. E ora ce la sta mettendo tutta ad amici, vuole arrivare al serale. Tra i suoi brani, almeno per il momento, ricordiamo. Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata, non fa trapelare nulla dai social. E sembrerebbe essere single. Ndg ha un profilo Instagram e con l'account at Ndg Music vanta oltre 10.000 followers. E sono destinati, quasi sicuramente, ad aumentare. Magina, che lumea è atta, si in plus, poti sa sari sus, 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 sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut haba. Cand'è sus, cand'è sus, cand'è sus, cand'è sus, pot eu sa sar. Acum, caz, nu, nu, nu.